È una continuità, la magia di crocietta, con delle caratteristiche di piaciuto molto importanti, con delle grandi traspirazioni, mentre la seconda magia abbiamo deciso di andare su un colore blu, come vedete il tono su tono con delle righe verticali e anche in questo caso poi con una riga davanti gialla, si introduce con la magia. Come notate c'è una bella distinzione tra i due colletti, che è una del colletto che non c'è la del collettorio. Quando riguarda la terza maglia, quali sono le maglie? La terza maglia è sempre una maglia con gli stessi tessuti, se dovete ripresentare la maglia che aveva 15 anni fa, con la base gialla del precedente. Più ce n'è anche una quarta. La colletta è stata una pezzina, io sono lo sponsor del channel della Salatoletto, colore verde e credo molto simpatica. La colletta è sempre il formaggio che ci proseguirà anche in futuro? Certo, con massimo risparmio, è un rapporto molto solido e di grande stile. Sperate che possano piacere anche i tifosi? Sono voi giudici. Grazie.